Foto ricordo per un calcio d'inizio, il nuovo centro sportivo della Cremonese, a Cremona, il presidente del CONI, Petrucci, l'allenatore del nazionale, Prandelli e Giovanni Arvedi, che ha voluto affidare a Unieco Sport la realizzazione completa di un impianto davvero avveniristico. Il team Unieco Sport ha messo a frutto tutte le competenze che il gruppo Unieco riesce a mettere in campo, è il caso di dirlo, 65 mila metri quadrati, l'area del centro sportivo che serve principalmente per i 270 ragazzini tesserati nelle giovanili della Cremonese, ma anche per la prima squadra. Tre campi in erba naturale e due in erba sintetica, due sono i campi omologati per le partite, uno in erba sintetica e uno in erba naturale. Due tribune con sedute e coperture, biglietteria, bagni, pista d'atletica, un altro vantaggio competitivo che il team Unieco Sport ha saputo mettere in campo, verde e arredo urbano in tutte le sue parti, compresi i vialetti di collegamento, le piantumazioni e un grande parcheggio. Il nuovo impianto della Cremonese realizza una perfetta integrazione fra campi in erba sintetica e campi in erba naturale, un'integrazione che è nel cuore dell'offerta complessiva chiami in mano di Unieco Sport. La pista d'atletica è un piccolo gioiello realizzato come dei resti materiali per il campi in erba sintetica secondo le più avanzate tecnologie con tutte le omologazioni più avanzate. Unieco Sport servizi quindi chiave in mano dal progetto alla realizzazione. Un impianto che servirà, come ha sottolineato il Presidente della Cremonese Arvedi, dalle giovanili alla Lega Pro per guardare al futuro. Fitness and Pools, piscine e benessere, un grande parco acquatico e una piscina domestica hanno molti punti in comune e Unieco Sport li conosce tutti. Le competenze progettuali, costruttive e gestionali maturate nell'realizzazione di grandi impianti diventano un know-how per tutti. Impianti sportivi, chiave in mano. Il saper fare, l'arte di ideare, progettare e costruire è nel DNA di Unieco Sport. Le esperienze maturate da Unieco negli anni sono ormai al servizio di chi intende realizzare e gestire un impianto sportivo funzionale, innovativo e perfettamente integrato con l'ambiente circostante.